E' il racconto di un'infanzia drammatica e perduta. Tahira Begum si alza ogni mattina all'alba, si addentra per due chilometri nella foresta a raccogliere legna per i genitori malati e i quattro fratellini. Un lavoro molto gravoso per una bambina di sole dieci anni, costretta a fare da fonte di sostegno per tutta la famiglia, nel campo profughi più grande del mondo. Sono circa 1.400 i bambini che devono provvedere da soli alle loro famiglie nei ghetti affollati di profughi allestiti al confine orientale del Bangladesh, dove si sono ammassati 600.000 rohingya musulmani in fuga dalle violenze che dall'agosto scorso le hanno presi di mira in Birmania. Mi alzo le prime luci e vado sulle colline, prima a far legna e poi a prendere l'acqua, spiega Tahira, poi quando torno devo far da mangiare e se mi resta un po' di tempo vado a scuola. Vivo con i miei genitori malati, altri quattro fratelli più piccoli, cerco anche di vendere al bazzaro un po' di legna per guadagnare qualcosa. Le organizzazioni umanitarie rivelano che questi bambini sono particolarmente vulnerabili alle malattie e a sfibranti stress emozionali a causa dell'assunzione di troppo pesanti carichi di responsabilità per mantenere le famiglie, senza contare i pericoli di sfruttamento manuale o sessuale cui possono andare incontro negli immensi campi tendati che accolgono i rifugiati. Il caso di Tahira è emblematico ma non isolato. È solo una bambina di 10 anni, sottolinea Babi Barua, addetta dell'Unicef. Non dovrebbe andare da sola nella foresta per raccogliere e vendere legna, anche se per sostenere la famiglia. È ancora una bambina. La vita nei campi profughi rohingya diventa ogni giorno più dura e difficile. L'afflusso sempre più massiccio dei rifugiati ha fatto schizzare alle stelle i prezzi e anche Tahira deve contrattare duramente con gli adulti per acquistare cibo e medicina per i suoi genitori e i suoi fratelli più piccoli. Il dramma di un'infanzia rubata al confine tra Birmania e Bangladesh.